I lavoratori di Rosarno, che fanno parte del bacino storico dei precari LSU e LPU, proclamano lo stato di agitazione, considerato che le recenti novità in materia di stabilizzazione, decise dal Ministero del Lavoro e sottoscritte dalla Regione Calabria, non lasciano molte possibilità né alla definitiva stabilizzazione dei lavoratori, né all'eventuale prosecuzione dei contratti a tempo determinato. Basta ricordare che né i fondi stanziati sarebbero sufficienti alla stabilizzazione di tutti i lavoratori, né sarebbe possibile procedere al rinnovo dei contratti a tempo determinato, come avviene da quattro anni a questa parte, poiché mancano oltre i fondi anche le deroghe necessarie al superamento degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione. I lavoratori rammaricati fanno sapere che, come spesso accade, pur avendo almeno a parole tutti lo stesso obiettivo, sindaci, regione, governo, sindacati, passando ai fatti, ognuno di questi soggetti marciano in direzioni diverse tra loro, individuando controparti diverse che spesso si confondono con le vittime. Da qui il rischio reale, sottolineano ancora i lavoratori LSU e LPU di Rosarno, che quel percorso di stabilizzazione iniziato quattro anni fa si concluda senza un nulla di fatto da qui a fine anno. Proprio per questo motivo i precari LSU e LPU di Rosarno lanciano l'ultimatum. Se i nostri interlocutori non riescono a intravedere altre soluzioni, se non per farsi la guerra tra loro, abbiamo deciso di dichiarare lo stato di agitazione in attesa che anche i nostri colleghi degli altri comuni lo facciano.